Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. È davvero il Rolex e Daytona un orologio così pessimo? Naturalmente la risposta è sì e lo diventerà ancora di più naturalmente perché le persone che dovrebbero darvi le informazioni invece di studiare si occupano di sondaggi. È venuta fuori questa notizia secondo la quale se uno posta un sondaggio l'algoritmo di YouTube lo dovrebbe aiutare per fare visualizzazioni. Secondo queste persone il motivo per il quale non fanno visualizzazioni è dovuto all'algoritmo e non al fatto che sono tre anni che resensiscono lo stesso orologio con il movimento NH35. Andiamo bene se gli imprenditori in Italia sono questi qui scappiamo subito ma andiamo a parlare del Rolex Daytona e perché la Rolex diventerà andrà sempre in peggio. Oggi Rolex utilizza, c'è una dicotomia, utilizza due tipologie di scappamenti quella chiamiamola così più tradizionale ovvero che c'è dalle 2000 è quella molla che si chiama Paracrom che è una lega di zirconio e niobio. Quindi la molla del sul bilanciere è fatta composta da metalli tradizionali. In più dal 2016 c'è anche abbinato uno scappamento Cronergy che ha una particolare è una particolare geometria dello scappamento in più abbinato a materiali tra l'altro il nickel che sono molto antimagnetici per cui riescono ad avere delle caratteristiche di antimagnetismo elevate nonostante che non siano composti di silicio quindi con tutte le problematiche del silicio che è un non metallo che quindi non ci incastra nulla con l'orologeria tradizionale e oltretutto è anche molto fragile. Tra l'altro vorrei anche dirvi che questa idea che ha portato avanti cioè questo Paracrom che comunque è stato ed è perché attualmente è in produzione e lo utilizza anche il Rolex Daytona è sicuramente qualcosa che viene dall'IVC Ingenier del 1989 quindi dieci anni prima IVC era già arrivata ad utilizzare queste leghe particolari che avevano già queste proprietà antimagnetiche. Era una lega in quel caso lì di niobio. Furono prodotti 3.000 pezzi poi la IVC decise di non andare di non proseguire perché non c'erano numeri a sufficienza per poter per poter affrontare delle spese così ingenti perché questa molla è una molla che costa molto ci sono tante fasi per che devono essere eseguite per poter creare questo questa molla sul bilanciere e per cui IVC non aveva i numeri per cui decise appunto di abbandonare purtroppo questa 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 idea che comunque aveva questi grossi vantaggi. Quest'idea che poi invece fu ripresa da Rolex e che è stata portata fino ai giorni nostri con largo con largo successo. Recentemente e parliamo del 2014 sui Rolex non soprattutto sui Rolex da femmina è stato un introdotto un nuovo tipo di scappamento ovvero una nuova molla in silicio che si chiama Siloxi. Ecco questo Siloxi questa molla è presente sui calibri 22 32 e 22 36 e poi nel 2015 è stato introdotto anche nel primo orologio da uomo che è lo Yachtmaster. Oggi troviamo questa molla in silicio nell'oyster perpetua perpetua al 28 da 28 millimetri 31 millimetri e 34 millimetri per cui abbiamo in questo momento questa questa dicotomia ovvero abbiamo due tipi di abbiamo modelli diversi nel caso per esempio dell'oyster perpetual abbiamo invece gli oyster perpetual da 36 millimetri e da 41 millimetri o per esempio il submariner che ancora utilizzano la vecchia la vecchia si fa per dire cioè quella tradizionale la molla paracrom che è quella composta appunto di materiali tradizionali. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Rolex sta aspettando di vedere come si comporta la clientela ovvero se la clientela mangia la foglia e capisce che questo questo siloxi questo scappamento in in silicio che quindi ha essendo un un semi metallo naturalmente è antimagnetico al cento per cento ma dobbiamo dire che il paracrom è anche abbinato soprattutto con lo scappamento cronergy arrivava quasi agli stessi agli stessi livelli di antimagnetismo in più anche alle stesse caratteristiche alle stesse performance perché tutti e due gli scappamenti garantiscono delle performance di più 2 meno 2 secondi al giorno che sono ottime performance per cui è chiaro ed evidente che questo nuovo scappamento siloxi è stato soltanto introdotto perché perché come vi ho detto migliaia di volte questo costa molto meno permette la lavorazione del del silicio permette di saltare tanti passaggi che alla fine rendono la produzione di questo tipo di scappamento molto ma molto più economica voi invece i soldi per i Rolex li pagate e li pagate anche profumatamente arrivando al ragionamento sul Rolex Daytona proprio ieri sera parlavo con Marco Beltrandi e paragonavo quello che è oggi il Rolex Daytona e non voglio entrare nel discorso dell'innesto verticale che sicuramente è una soluzione economica e una soluzione che assolutamente non si addice su un orologio che di listino viene 13 mila euro e che poi va bene lo si trova che poi non lo si trova neanche perché naturalmente la gente non capisce assolutamente niente di orologeria sempre naturalmente per colpa degli influencer imprenditore imprenditori slash youtubers e quindi naturalmente comprano sul sulla base diciamo così del marchio per cui anche questo Rolex Daytona non si trova per cui si va a comprare da reseller parlando con Marco Beltrandi ho messo a paragone quello che poteva essere il movimento che comunque ha una certa esclusività quella del Rolex Daytona nel senso che è dedicato soltanto al Rolex Daytona con quello del movimento Ewer 02 che va invece su tutti i modelli solo Ewer di cioè di produzione di tag Ewer che sono il Monaco che sono il Carrera che sono l'Otavia ma siamo arrivati alla conclusione che tra i due non esiste nessuna differenza ora se un Carrera viene 4100 4200 euro come prezzo di mercato e un Rolex Daytona 13 mila euro di listino e poi dopo magari viene 22 mila euro capite che questo è un orologio veramente pessimo pessimo senza ecco senza ombra di di dubbio questi sono naturalmente i motivi per il quale io vi invito insomma ecco a ragionare sul Rolex Daytona e da valuta e da valutare quelle che possono essere orologi sicuramente migliori da un punto di vista proprio del movimento e qui posso nominare sicuramente il primo classico senza andare a scomodare ecco gli ultimi l'ultimo 3600 ecco questi sono oppure l'Omega 321 con movimento 321 ecco questi sono gli orologi che oggi non vengono considerati o vengono considerati troppo costosi mentre invece hanno al loro interno delle caratteristiche sicuramente equiparabili come come performance e come caratteristiche tecniche dell'orologio del movimento identiche a quelle del Rolex Daytona io spero e che possiate beneficiare che possiate e che teniate conto delle informazioni che vi do è importante che decidiate quando comprate un oyster perpetual che scegliate il 36 mm oppure il 41 mm con scappamento tradizionale con scappamento con materiali tradizionali perché se Rolex vedrà dai numeri che la gente non si rende conto della differenza tra uno scappamento e l'altro a quel punto lì deciderà sicuramente sul taglio dei costi per cui andrà sicuramente sul silicio io spero che questo video vi sia utile se vi è piaciuto mettetevi un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti